Far conoscere Pordenone ai turisti, ma soprattutto farla riscoprire ai pordenonesi. È l'obiettivo delle avvincenti visite guidate gratuite del sabato mattina, promosse da Rotary Concomune e Pordenone Turismo. I tour si snodano tra scorci e curiosità, stemmi e palazzi storici, piazzette e vicoli, dal centro alle rive del Noncello. L'organizzazione prevede che tutti i sabati mattina ci sarà la visita guidata, organizzata da una guida certificata che parte proprio qui dalla loggia alle 11 fino a mezzogiorno e mezzo. Questo è un servizio che sarà garantito fino al 30 giugno. E posso dire con orgoglio che fino ad oggi più di 600 persone dai primi di settembre hanno fruito di questo servizio. Le visite sono aperte a singoli, associazioni e gruppi. Il sindaco Alessandro Ciriani. Pordenone non è solamente una città delle imprese e delle aziende, una città che dalle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali preziose e che vanno fatte conoscere. In primis a chi abita a Pordenone e poi a coloro i quali vengono a trovarci. Quindi le tante persone che possono apprezzare i nostri contenitori culturali, l'offerta commerciale, le proposte culturali. Queste guide turistiche, per le quali ringrazio tantissimo il Rotary che ha messo a disposizione i suoi fondi e la sua disponibilità, queste guide turistiche consentono di scoprire scorci, pezzi, angoli della città che talvolta noi trascuriamo e che non conosciamo. Per informarsi e aderire ai tour gratuiti è possibile contattare i recapiti in sovrimpressione o consultare il sito del Comune.